Ma le macchine possono essere creative? Le prime applicazioni della E ci danno delle indicazioni, come il caso di Unfinished Symphony, in cui l'intelligenza artificiale di Huawei ha completato l'ottava sinfonia di Schubert, realizzando il terzo e quarto movimento. Nell'app Fashion Flare, l'intelligenza artificiale è stata addestrata attraverso migliaia di immagini iconiche nella storia della moda. Poi sono stati dati una serie di parametri di base per ottenere spunti creativi e proposte di outfit che sono stati proposti alla designer per rifinire il lavoro e confezionare ogni componente della nuova collezione. Il connubio ha permesso di realizzare 20 outfit di una capsule collection. Grazie a tutti!